Giù ci sono i ragazzi di Officine Tarantine che hanno avuto lunghi periodi di comunicazione con lei. Sì, noi oggi finalmente facciamo questo ultimo passaggio importantissimo per la città di Taranto perché ci sono 15 aree che abbiamo già acquisito il 30 giugno e altre 12 aree che si aggiungono adesso. Diciamo che ci sono 27 aree remaniali, noto che l'attenzione è concentrata solamente sui baraccamenti cattolica però a parte che dentro i baraccamenti cattolica è un'area così vasta che si presta a diversi usi e infatti noi abbiamo anche individuato quell'area che è a disposizione della ASL per poter fare il Dipartimento di Prevenzione e anche il Dipartimento di Prevenzione per una città come Taranto dove, non lo devo dire io penso che lo sanno tutti i cittadini di Taranto dove è molto importante la questione della salute credo che fare degli screening, quindi un discorso di prevenzione sia molto importante. Ci sta un'altra area che è quella della ferrovia di Circo Mar Piccolo che è anche un altro importante elemento che potrebbe essere di sviluppo e di rilancio per quello che è l'importanza del Mar Piccolo. Ci sono altre aree importanti, poi ci sta l'area giustamente rivendicata come noi abbiamo già stabilito che quell'area era a disposizione dell'aggregazione sociale e soprattutto riservata ai giovani quindi è già volontà dell'amministrazione dare quell'area a disposizione dei ragazzi di tutti coloro i quali hanno a cuore questa città, sono creativi e hanno necessità giustamente di trovare degli spazi nei quali poter esercitare la loro creatività. Quindi il dialogo c'è sempre stato perché anche il Sindaco ha sempre ricevuto, non solo io ma anche il Sindaco si è fatto promotore, ora stiamo per arrivare in dirittura d'arrivo e poi da domani, quando noi avremo acquisito nelle proprietà del Comune queste aree sicuramente si può aprire un dibattito molto ampio con tutte le categorie, tutte le associazioni di Taranto da quelle più importanti, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, CNA ai singoli cittadini. E' tutto pronto, i tempi tecnici, guardate voi sapete purtroppo, dico quello che è stato riferito da esponenti nazionali che in Italia oggi, lo dice il Presidente Renzi, che dobbiamo snellire le procedure perché oggi dall'idea di realizzare una cosa quando si realizza senza intoppi passano 7-8 anni se non 16 anni, vedi il problema del porto che stiamo vivendo tutti quanti con grande ansia per quando non ci sono ricorsi, quando non ci sono ostacoli. Ci saranno naturalmente in base a quello che sarà la spesa che deve essere impegnata, come dicono le norme, in base appunto alla spesa bisogna fare dei bandi, quindi dobbiamo aspettare per lo meno 90 giorni per un bando e poi dopo voglio dire andiamo. Noi ci auguriamo nel giro di poco tempo, anche perché lei sa che c'è un vincolo col demagno, noi dobbiamo realizzare entro i tre anni. Se non realizziamo entro i tre anni, voglio dire, le aree ritornano al demagno. Quindi questo che è un vincolo, una legge, perché come diciamo agli altri che la legge deve essere rispettata, anche le istituzioni devono rispettare queste norme. Quindi questo sarà da pungolo alle altre istituzioni per poter fare in fretta. Per quanto riguarda il Comune, noi abbiamo fatto da tempo il nostro dovere.